E adesso torniamo in onda per un altro ospite che arriva a trovarci nella nostra mattinata insieme qui su Radiofermo 1. Un altro ospite, ve lo presento, Nazareno Vita, direttore dell'Istituto d'Utella Produttori Italiani, perché? Perché parliamo di un'iniziativa in programma domani all'Utella Storia Fermo che proprio di Fermo parla perché le parole, due parole che sono nel titolo sono fondamentali in qualsiasi centro storico, visto anche i problemi attuali, sono nel telefono, lo spegniamo, lo mettiamo silenzioso. Rinascita e rilancio del Salotto Buono, stiamo parlando di Piazza del Popolo, comunque del centro storico di Fermo, ma credo che il discorso non a Nazareno si può estendere a tutti i centri storici della nostra regione di fatto. Sì, ma diciamo pure che non poniamo limiti, possono essere estesi a tutti i centri storici d'Italia, centri storici che in qualche modo oggi vengono trascurati, sono, non dico assolutamente in stato d'abbandono, ma sicuramente in modesta considerazione rispetto a quelle che sono le potenzialità di un centro storico. Possiamo elencare tutta una serie di elementi, partiamo dall'accensimento di Fermo, per esempio. Fermo abbiamo 40 negozi al centro, su Piazza del Popolo e ne abbiamo 10 che sono non affittati, Corso Cifroni ne abbiamo 33 e 9 non sono affittati, Via Vittorio Venere sono 10 e 2 spazi non affittati, questo è un incensimento di qualche mese fa. Probabilmente oggi questi numeri aumenteranno, ma questo non è un dato generale, ancora più, anche gli stessi negozianti cominciano a perdere la loro speranza di vedere coperte le spese, non dico guadagnare, e quindi bisogna in qualche modo intervenire. Qual è il problema però principale? Che questi signori non hanno oggi una prospettiva, non c'è una prospettiva, la luce non si vede, si vede solo che non ci sono affari, non ci sono i margini per poter coprire le spese e di fatto non c'è un domani. Allora, questa è una cosa che dobbiamo superare, subito, oggi, dobbiamo subito ridare speranza ai commercianti, ridare speranza ai proprietari anche dei negozi del centro, ridare speranza a tutti quelli che frequentano il centro. Però questo va fatto non più in modo come adesso, forse occasionale, saltuario, benissimo, tante buone volontà, ma bisogna cominciare a pensare in modo professionale e con obiettivi ben chiari e soprattutto individuando dei target definiti di clientela che dovrebbe essere individuata perché affluisca al centro di Fermo. Ecco, di fatto il problema a cui parliamo di Fermo, ma ci ascoltano un po' da tutto il territorio, quindi il problema che si trovano ad affrontare le amministrazioni è quella di un debolimento, ovviamente non dal punto di vista di attrattiva culturale dei centri storici, perché rimane il punto di forza, l'attrattiva artistico, culturale, però ovviamente a livello commerciale la competizione che arriva dalle grandi strutture commerciali, competizione in parte legittima, perché credo sia sbagliato vietare a prescindere la creazione di centri commerciali che giustamente fanno i loro interessi e comunque vanno a coprire anche delle esigenze dei cittadini che sono legittime, quindi se io voglio la grande distribuzione per risparmiare sulla spesa del fine settimana è legittimo che io vada al grande ipermercato. Però la differenza, quindi il punto di forza su cui investire è proprio questo che ho appena detto, ovvero la differenza tra l'offerta. Allora, incominciamo a parlare un pochino più dal punto di vista prettamente economico. Allora, qui abbiamo dei target, se non parliamo per target c'è il rischio che non ci si capisce bene. È chiaro che abbiamo gran parte della popolazione che perché ha un'esigenza quotidiana ha bisogno di trovare dei prodotti e quindi questo è normale che ci siano dei centri commerciali, ma non è normale il fatto che un territorio deve avere un'economia, deve avere uno sviluppo, deve avere una prospettiva. Questo non è normale. Vivere a campare non è normale. Quindi vedere gli investimenti fatti dalle persone, dagli enti, dell'associazione, vederli lì dalla parte che non hanno nessuna prospettiva futura, questo non è normale. Quindi noi dobbiamo cominciare a capire il territorio. Noi abbiamo un territorio ricchissimo, ricchissimo di beni architettonici e culturali, ma lo abbiamo anche del sistema produttivo, il quale oggi lavora, si può dire, 90% conto terzi o conto a favore di qualcuno che ci mette sopra una brand, ci mette sopra un'etichetta. Ecco, allora, vogliamo dare cittadinanza e spazio anche a queste realtà? Quindi, incominciamo a pensare in modo professionale alla gestione dei beni architettonici e culturali. Professionale significa fare in modo che l'utente, l'utente importante, l'importante, io parlo oggi estero, anche italiano, ma è importante, che ha cultura, che ha voglia di vivere delle realtà nuove, delle città nuove, delle beni architettonici, che non sono solo Roma, Milano, che poi lì in linea con i Pullman, non esiste, non è più questo il futuro. Mentre qui potremmo rivivere la città, ma proprio ristrutturarla, come se fosse una cosa oggi in una situazione, non dico di degrado, ma sicuramente ristrutturarla, e affiancare a quello che è il bene culturale l'aspetto economico. Certo, qual è il prodotto oggi che tira rispetto al prodotto di basso prezzo? E sono gli autoletti. Ecco che noi allora cos'è che abbiamo fatto? Siamo andati in giro per l'Italia e abbiamo cercato, Italia per il mondo, abbiamo cercato di capire quali sono i punti di forza di queste realtà. E abbiamo individuato delle cittadine toscane che hanno un'attrattiva senza avere nessun bene architettonico, e questi signori hanno detto, bene, facciamo un hotel diffuso sul territorio, sulla cittadina, hotel diffuso significa che tutta la cittadinanza hanno dei margini di guadagno. Noi vediamo a Fermo tantissime bellissime case che sono sotto affittate a italiani o stranieri, a costi assolutamente banali, non sempre vengono pagati, mentre viviamo delle realtà in queste altre città dove la cittadinanza estera viene da noi, viene ospite e paga per un fine settimana 300-400 euro. Cosa? Nemmeno i miei appartamenti, sono poco più che camere. Allora, Fermo non solo ha la possibilità di fare questo perché ha un centro storico bellissimo, a livelli architettonici bellissimi, ma anche i prodotti, perché ha un sistema economico sul territorio assolutamente importante. Allora, tutte queste cose messe insieme e aumentate con quello che potrebbe essere un feeling iniziale, cioè gli outlet. Oggi abbiamo gli outlet che sono in mezzo alla campagna. Li riportiamo al centro della città, coinvolgendo tutti i commercianti, ecco che facciamo attrattiva di quelle persone che vanno in giro con la carta di credo, non a comprare d'acqua minerale, perché quelle d'acqua minerale ci interessano meno. Li possiamo mandare sui centri commerciali, benissimo, ma qui a Fermo, al centro di Fermo, dobbiamo avere persone di cultura che vengono con la carta di credo. Questo deve essere il nostro target, ma tutti poi dobbiamo rimare in quella direzione. I protagonisti chi dovrebbero essere? Chiaramente l'amministrazione comunale, a seguire i commercianti, gli architetti, i proprietari dell'immobile del centro di Fermo e, nello stesso tempo, chiaramente i produttori del territorio, che devono avere un punto di riferimento importante. Viene un cliente americano, dove lo portiamo oggi per fargli vivere la città e fare in modo che ritorni là a testimoniare? Io sono andato nelle Marche, sono andato a Fermo, sono andato a Monte Granaro e ho vissuto benissimo in un bellissimo appartamento al centro di Fermo, ho degustato i prodotti tipici sul territorio, mi sono comprato 7000 paesi di scarpe e lo testimonia a tutto il Giappone. Certo, ovviamente le strutture servono, però ad esempio parlavamo stamattina con il sindaco dello svilupparsi di palazzi storici che vengono adibiti a strutture di ospitalità, quindi strutture come palazzi, albergo diffuso che dà proprio questa esperienza, cioè non il semplice hotel ma proprio il fatto di vivere appieno quelle che sono le caratteristiche di un centro storico come può essere quello di Fermo eccetera eccetera. Poi io sono convinto, ci sono stato tra l'altro un mese e mezzo fa sotto il periodo dell'ultimo dell'anno in Toscana e non abbiamo nulla, proprio veramente nulla da invidiare a comuni come Arezzo eccetera. L'unica cosa è che dobbiamo imparare a saper vendere meglio i nostri prodotti. Questo sì, no? Certo, però attenzione, se noi andiamo in giro per il mondo dall'America al Giappone non conoscono Italia, conoscono la Toscana. Adesso se noi pensiamo che un paese importante che sia Monteciorgio, piuttosto che Serviano, Falerone, possa sorgere a riferimento di queste grandi nazioni, noi già siamo piccoli se parliamo di Fermo inteso come Fermano, quindi è chiaro che dobbiamo fare un unico progetto forte che vada in giro per il mondo. Diversamente il piccolo è bello ma non paga. Quindi il progetto Fermo, Fermo e Salotto Buono, deve rappresentare il Fermano. chiaro che poi avremo l'hotel diffuso sul territorio e i beni architettronici sul territorio perché mi sembra che c'è già un percorso sul territorio. Queste sono cose che poi andranno inserite all'interno di un progetto più specifico, articolato, esecutivo. Però resta che dovremo avere noi un'idea di quello che deve essere il futuro. Cioè ricominciamo a pensare che lo straniero deve venire in Italia, vivere l'Italia, vivere le Marche, vivere Fermo, dopodiché ritorna da dove è venuto e testimonia quello che ha visto. E diventa il nostro miglior promotore. Ecco, ricordiamo che l'appuntamento è domani alle 10, se non sbaglio, ovvero alle 10 all'hotel a storia di Fermo. Progetto, il progetto, il titolo del, diciamo, la piazza, rinascere il granzo del Salotto Buono. Ecco, ma entrando in sintesi, senza anticipare troppo perché altrimenti poi rischiamo di svelare i punti centrali del progetto completo che verrà illustrato domani mattina alle 10, ripeto all'hotel a storia di Fermo, ma facendo un riassunto appunti di quello che avete studiato e perché di fatto di uno studio si tratta, so che avete anche delle immagini con quelle che potrebbero essere le previsioni di come verrà trasformato, ma non neanche più di tanto, però verrà rilanciato il centro storico. Chiaro, chiaro. Teniamo conto che abbiamo lavorato su sei punti che abbiamo già detto fin dall'inizio. Il primo punto è quello chiaramente dei beni architettonici e culturali, poi c'è l'ospitalità diffusa, l'apertura di outlet, accessi e soste e servizi alla persona delle cose. Qualità tipica locale è l'ultimo punto, il sesto. Cosa abbiamo previsto? Innanzitutto chiaramente va rivisto il centro storico dal punto di vista dell'arredo urbano e di una serie di insegne che devono in qualche modo poi rappresentare quelle che sono le nuove attività che vengono rimesse al centro storico. Il centro storico deve ritornare a essere popolato innanzitutto da outlet e negozi, poi a seguire da alloggi, quindi gli alloggi privati dovrebbero avere la prevalenza, oltre che chiaramente non lo esclude che ci siano delle hotelle, siano rilanciate le hotelle agli assistenti, ma il primo progetto che deve nascere immediatamente è quello dell'hotel diffuso sul territorio. Poi tutta una serie di locali che già c'è già, perché attenzione, già fermo, qualcosina sta facendo. Una serie di locali che fanno di ospitalità alla sera, intrattenimento, ci sono già. Quindi vanno assolutamente potenziati quelli, quindi tutta una serie di immagini che vanno in linea con quello che sono oggi, ripeto, gli outlet, gli outlet da Roma piuttosto che a Pescara all'ultimo, Verona, che hanno tutta una serie di architetture assolutamente pulite, ripulite, con una serie di insegni e questo è quello che abbiamo posto noi all'interno delle piazze del popolo. Poi abbiamo previsto una serie di percorsi con le minibus che devono far affluire le persone al centro dai punti di arrivo, perché prevediamo un punto di arrivo dei bus, quindi area bus, un punto di arrivo principale a San Francesco, anche il buario, l'area mercato ex area coni, sarebbe il campo buario lo stesso, prevediamo che debba risultare come punto di riferimento dell'accesso delle auto con una parte importante anche a Pizzare Solino, che dovrebbe diventare la movita della zona sostanzialmente, quindi anche quella di fare in modo che i giovani possano avere il loro spazio. Teniamo conto, e non va trascurato, il fatto che noi abbiamo fermo il Montani, il Montani ha uno storico assoluto che forse recentemente è stato un pochino trascurato, questo va rilanciato all'interno di questo progetto della valorizzazione di quelli che sono i punti di forza dell'area. Vedo che avete proprio delle sorte di tavole con delle proiezioni di diverse zone della città su come sono e come potrebbero diventare, queste verranno presentate anche domani. Sì, adesso io chiedo la scusa poi ai cittadini di fermo perché abbiamo buttato giù qualche palazzetto o qualche cosa. Sì, infatti vedo, ma qua la... dov'è qui? Sì, a San Francesco. Ah, avete buttato sul palazzo quello... Ma così era sparito. Anche la chiesa è sparita. No, la chiesa c'è. No, eccola. Si vede benissimo la chiesa, si vede molto meglio la chiesa adesso. Sì, beh, guarda qui, guarda qui che bello sarebbe se fosse così. Sì, beh, lo avremo, forse fra qualche anno, ma riusciremo ad avere questo. Cioè, appena si arriva a fermo... Vedere, praticamente per chi ovviamente non vede le immagini, però si tratta della navata di San Francesco senza il palazzo bianco che si trova al fianco, dove adesso c'è il mercato, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ma questa è la pensione, adesso non è che è stata poi tutta l'iniziativa nostra, anzi, noi siamo stati solo interpreti di quello che è stato il suggerimento da diverse persone. Adesso faccio l'esempio anche di quella dell'area sterte. Qui abbiamo previsto tutta una ristrutturazione di quegli immobili lì presenti, tant'è che poi questa mattina o ieri ci siamo meravigliati che noi prevedevamo qui di mettere una serie di iniziative a favore, a sostegno, a fiancamento degli studenti dell'Istituto Montani e tant'altro e ci vediamo che oggi della valle annuncia che a Cassette fa un centro per i giovani. Sembra quasi una combinazione di vedute, sostanzialmente. Ecco, però questa è quella che prevediamo anche qui, cioè una ristrutturazione e diventa un'area molto più fruibile anche per i ragazzi, diventa un centro di aggregazione. Un centro a ridosso del centro storico, una porta splendida come quella di Sant'Antonio, con la torre. Certo, inutile dire altre cose. Certamente la cosa importante, e che io continuo a ripetere, è quella di avere una prospettiva, perché qui il problema essenziale che abbiamo tutti è che navighiamo a vista e non sappiamo dove andare anche tra qui a un mese, due mesi, cinque mesi. I commercianti si lamentano perché vogliono un pochino più di spazio sulla piazza, altri operatori dicono che qui non c'è più prospettiva, non c'è più possibilità di andare avanti, andiamo in Kenya piuttosto che in Tunisia. Cioè, io credo che noi riusciamo assolutamente a dare la prospettiva ai giovani, prospettiva a quelle che sono le future generazioni, ma attenzione, ma non poi sulle vecchie attività, dico anche vecchie intese come tradizionali, in mano via piuttosto che in fabbrica. Qui stiamo parlando poi di figure professionali che dovrebbero essere inserite in un circuito internazionale di ospitalità, quindi con capacità di conoscenza perfetta di lingue, con capacità di conoscenza perfetta di informatica, cosa che attualmente i nostri giovani stanno studiando, anche di progettazione, perché tutto questo progetto presuppone tra l'altro il coinvolgimento di giovani architetti che dovrebbero addirittura griffare, firmare i negozi del centro storico, chiaramente con l'affiancamento del senior, e quindi abbiamo anche la prospettiva di dire che quel negozio l'ho firmato io domani, cioè una vivacità, un'attività che potrebbe riportare entusiasmo all'interno di quello che è un sistema sociale, un sistema economico del territorio. Quindi di fatto il progetto che presenterete domani riguarda anche una sorta di riforma forse troppo, però di cambio di marcia dal punto di vista culturale, perché vede coinvolte le scuole, vede coinvolte gli istituti, parliamo del Montani, ma penso all'Ipsia, alle altre scuole che comunque hanno dei legami forti con quella che era l'alertà imprenditoriale del territorio e vede anche la presenza concreta forse maggiore di imprenditori che investono. In prospettiva dovrebbe essere così, però attenzione, noi li coinvolgiamo dal punto di vista professionale, non scolastico, noi parliamo di post scuola, quindi diciamo i giovani che sono usciti dalla scuola e che devono inserirsi nel mondo del lavoro e qui dovrebbero avere già le prime opportunità, l'opportunità anche di cimentarsi, perché io stesso ho un figlio che fa l'architetto e oggi prospettive di lavoro ce ne sono pochissime, allora, dagli la possibilità di fare anche delle esperienze, non dico sperimentazioni, sicuramente esperienze affiancate dagli professionisti, assolutamente questa è una prospettiva non da poco, oltretutto poi alla fine ci ritroviamo ad avere un ammodernamento di queste strutture, cosa che attualmente non è assolutamente fatta. Quindi, però ripeto ancora il concetto, dobbiamo avere una traccia, dobbiamo avere una prospettiva, dobbiamo avere un futuro, allora se sappiamo dove andare sicuramente tutti ci dovremmo per andare in quelle direzioni, l'importante è che condividiamo la strada, condividiamo l'obiettivo, fatto questo io credo che buona volontà è sufficiente, ma è ora di cambiare il passo che dobbiamo passare dalla buona volontà alla professionalità e su questo non dobbiamo assolutamente peccare. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento domani mattina alle 10, è aperto a tutti ovviamente l'incontro, hotel a storia di fermo, la piazza rinascita e rilancio del salotto buono, ascolterete un po' quello che avete sentito, ma molto di più vedrete anche. Tra l'altro tutta la registrazione che verrà effettuata poi verrà trasmetta su alcune tre visioni regionali e interregionali, quindi sarà sicuramente un'iniziativa tipo torscio quasi, perché ci saranno dei confronti tra tutti quelli che saranno rappresentanti in qualche modo, non necessariamente saranno tutti lì, però ci sarà sicuramente il rappresentante dell'istituto di tutela che è il nostro vicepresidente Pasquale Bianci, ci sarà una presenza di un rappresentante del comune, anche dei cittadini del centro, dei commercianti, dei produttori, dei proprietari dei locali, architetti, la banca, la fondazione, quindi ci saranno tutta una serie di rappresentanti i quali poi avranno anche loro l'occasione di dire la loro e di dare il loro contributo. Perfetto, quanto mai multimediali, radio, televisione, avete fatto due, avete pensato a tutto. Bene, io vi ringrazio, ricordiamo l'appuntamento domani, buon fine settimana e soprattutto domani in bocca al lupo per questo appuntamento importante che riguarda, dicevamo all'inizio fermo, ma in generale tutti i centri storici un po' della nostra regione. Grazie Nazareno Vita. Grazie a voi di avervi ospitato, buon lavoro anche a voi. Bene, noi continuiamo con il nostro sabato, a te da linea Mary, perché fra un po' abbiamo un collegamento telefonico, perché anticipo per tutti gli appassionati di Tex, no Mary, se hai il telefono, vabbè, tutti gli appassionati di Tex avranno una notizia più che piacevole. Grazie a tutti.